Mercatini di Piazza Risorgimento, Piazza Saiacopo, ci siamo, meno uno le casine in questo momento vengono addobbate. Lucio Gori osserva, ovviamente controlla che tutto vada bene, ma insomma mi sembra che la carica sia giusta, una bella giornata, quindi insomma tutto fa sperare per il meglio. Sì, diciamo che i mercatini partono all'insegna del sole, delle temperature rigide, questo va bene anche per gli articoli tipicamente natalizi, che saranno in vendita da domani fino al 6 gennaio negli oltre 25 bancarelle presenti tra Piazza Risorgimento e Piazza Saiacopo. Bisogna dire che queste bancarelle sono state all'inizio un bel investimento, però poi alla fine hanno fatto veramente Natale e la differenza. Sì, gli operatori si sono impegnati, lo ricordiamo cinque anni fa, insomma in un investimento importante, però è anche vero che dal punto di vista dell'immagine, dal punto di vista del ritorno anche come gradimento della clientela e anche come modo di proporre la merceologia in vendita hanno dato chiaramente un tocco in più. Anche quest'anno, ricordiamo, c'è un'ampia varietà di prodotti, per cui si va veramente dal prodotto tipicamente natalizio dal punto di vista alimentare, quindi soprattutto in Piazza Saiacopo con i prodotti siciliani, i pugliesi, i formaggi, i tartufi, il miele, insomma tanti prodotti, oltre che chiaramente i tradizionali dolci natalizi, ma poi soprattutto per tutte le tasche, tutti i gusti, tanti prodotti per rivestirsi. L'invito agli aretini e ai tanti turisti è anche quello di venire in queste due piazze, perché c'è veramente la possibilità di sbizzarrirsi con gli acquisti e poi veramente di pensare a tutti gli amici e alla famiglia, quindi l'invito a tutti fino al 6 gennaio a venire in Piazza Saiacopo, in Piazza Risorgimento.